L'installazione del mio personale DigiFast all'interno del bel sistema di Fabio Algeloni è stata curata da Marco Cavallatore e durata circa 8 ore. 8 ore suddivise in realtà in due mezze giornate senza contare poi le pause, caffè, le discussioni, i confronti, alcuni anche piuttosto tesi, specialmente sulle procedure di calibrazione dei proiettori DLP su cui proprio non eravamo d'accordissimo. Il sistema, descritto nel dettaglio da Fabio nell'articolo citato in descrizione, ha giovato dell'inserimento del DigiFast in maniera eclatante secondo me, sia grazie alla calibrazione dell'acustica ambientale, sia per la 3D LUT di correzione del proiettore, entrambi a cura di Marco Cavallaro in forma smagliante e per alcuni aspetti anche quasi in maniera ossessiva. Ho anche approfittato dell'occasione per rubare a Marco Cavallaro qualche segreto delle impostazioni di Maddvr e trovate tutto in un video dedicato a questo argomento a cui ho messo il link al termine di questo filmato e anche nella descrizione. Tornando all'installazione, oltre all'aumento significativo della neutralità timbrica del sistema con i diffusori BMW Serie 800, secondo me l'aspetto più entusiasmante è la qualità della riproduzione video con il proiettore Optoma UHZ65LV che ha bisogno evidentemente di una 3D LUT per esprimersi al meglio. Per i commenti di Fabio Angeloni sul DigiFast e la fedele descrizione dell'intero sistema vi rimando al suo articolo con un link anche questo in descrizione.